Un evento straordinario che vedrà Roma capitale di uno sport particolarmente amato dagli italiani, dai romani con una squadra azzurra straordinaria, con una cornice unica, la più bella del mondo, penso il Foro Italico, la bellezza di questa città, Ostia insomma siamo davvero contenti e ringrazio molto il presidente Barelli, il presidente Zingaretti, il governo Sport e Salute per questa ottima collaborazione, saranno dei bellissimi europei.